Senz'altro abbiamo fatto tutti i controlli del caso e la scuola è in sicurezza e i bambini sono rientrati. Ma qualcuno ce l'ha però con questa scuola? Perché recentemente c'è stato anche il furto dei tablet. Cosa sta succedendo? Non lo so, non credo. Penso che sia abbastanza casuale, ma non ho elementi per ipotizzare alcun chienzo. La chiamata poco prima dell'ingresso, poi che cosa è successo? Niente, la chiamata poco prima dell'ingresso è scattata la procedura, abbiamo chiamato le forze dell'ordine, abbiamo fatto i controlli che dovevamo fare. Nel momento cosa ha pensato? Niente, quello che dovevo fare. Non ho, generalmente quando succedono queste cose emergenziali sono molto reattiva, non mi fermo a pensare ai massimi sistemi, faccio quello che c'è da fare e basta. C'è qualcuno che ha scelto di non portare i propri figli a scuola oggi? Eh sì, e poi qualcuno che invece l'ha rimandato quando ha avuto notizia che stava tutto regolare.